buongiorno a tutti da fine in cucina e non solo oggi vi voglio fare un mini hall di acquisti che ho fatto recentemente quasi tutti nella stessa giornata e volevo condividere con voi alcune cosine che ho comprato per la casa e per il benessere diciamo così benessere olfattivo allora sono data da gran casa e così guardando in giro ho visto questo quadernino monocromo ad anelli che mi serviva e l'ho tirato su niente di che insomma comunque 2 euro e 50 mi è sembrato un po caro però mi serviva e l'ho comprato mi sarebbe piaciuto con una copertina diversa però poi alla fine ho detto vabbè la tinta unita c'è sempre il suo perché poi fucsia il mio colore uno dei miei colori preferiti quindi ho deciso di comprarla così poi sono andata in un supermercato della mia zona e ho trovato questo che molti di voi comunque elogiano per i vetri della doccia non l'ho ancora provato spero che rispetti le aspettative praticamente in teoria dovrebbe fare quella patina che non che non idro repellente diciamo che non fa depositare le gocce di calcare ma la vedo estremamente dura visto che ho provato di tutto anche le bombe atomiche ma con scarsi risultati comunque questo l'ho pagato 2 euro e 45 dal supermercato poi per quanto riguarda le coccole mi son comprata io non uso tisane bevo solo e unicamente tè normale breakfast quello proprio dalla colazione ma ho voluto ho detto beh gli ingredienti mi piacciono l'odore che comunque esce da questa fessurina è ottimo e mi sono comprata questa tisana dopo pasto liquirizia anice e finocchio si chiama mago merlino la ditta c'erano anche altre varianti contiene 15 filtri e poi c'è questa apertura fatta in questo modo vedete ti spiega anche il modo d'uso quindi deve andare in un infusione a cento gradi per da 4 a 6 minuti poi niente qui ti dai valori nutrizionali ti dice appunto che cosa contiene in questo caso anice radice di liquidizia finocchio rosa canina e aromi con sigillo di garanzia e poi ti spiega una fresca tisana di liquidizia anice finocchio per concludere ogni passo con una piacevole magia infatti si chiama mago merlino tisana e costicchiata un po perché alla fine ho speso per solo per queste 15 bustine 4 euro 89 ma siccome io non non so se è una cosa diciamo valida o che ho detto tanto prenderò solo unicamente questa se mi piace magari continuerò a prenderla altrimenti niente la consumerò non so in quanto tempo comunque è made in italy sembra un buon acquisto ho comprato questa tovaglietta plastificata sempre nel supermercato mi piaceva il fatto di poterla dividere esattamente a metà vedete che c'è questa linea perché volevo ripristinare l'angolino del caffè al momento è un po diciamo accrocchiato e quindi volevo un attimino rivedere la postazione caffè che io non non sono una grande diciamo bevitrice di caffè però quei 23 caffè al giorno fatti bene mi piacciono e mi piace avere tutte le le cosine al loro posto e quindi questa qua mi sembrava carina sempre in tema cuori però dedicata al caffè e al momento diciamo al rito del caffè vedete ci sono vari vari cuori di ogni genere coi chicchi con biscottini le due tazzine lui e lei cappuccini cappuccini col cuore insomma molto molto carina e questa poi sempre la parte di qua fatta a quei che chiede il caffè questa tovaglietta è costata un euro e 49 per quanto riguarda gli acquisti profumosi per le coccole benessere dell'olfatto sono andata da casa e c'era in offerta questo profumatore d'ambiente al gelsomino in questo con questo vasetto fatto in questo modo i suoi bastoncini e l'ho pagato 4 euro e 99 anziché 9 99 me l'ha proposto la cassiera io amo questi questi profumatori e comunque candele essenze via discorrendo e quindi ho pensato che magari o lo tengo o faccio un piccolo presente a qualcuno ma è sempre una cosa carina e piacevole anche da tenere in bagno oppure a me piacerebbe anche sul comodino ma l'altra parte non gradisce quindi non posso metterlo però diciamo che quando trovo magari qualche offerta le compro sempre in quel negozio casa ho comprato queste 9 candeline apple fanno un profumo già meraviglioso di per sé però di solito questi tipi di candele le tea light quando le metti poi a bruciare non non sanno di molto io le uso per poi vaporizzare le essenze nelle ciotoline anche se non lo so che si dovrebbe usare soltanto la tea light bianca senza profumazione però mi sembra che dia quel quel qui di in più insomma e le candeline le ho pagate un euro 9 candeline poi sono andata in un altro negozio che si chiama bossi sempre nella provincia dove abito e qui dal bossi ho trovato sempre questo tipo di profumo ambienti diciamo home fragrance la ditta si chiama emozioni olfattive infatti secondo me comunque è vero che gli odori richiamano diciamo delle emozioni delle pensieri dei ricordi e in particolare profumazione arancia e cannella ma è molto gradita mi ricorda il periodo del natale ma anche se fosse agosto la mettere lo stesso mi sembra una buona casa è comunque una made in italy la fan le fanno in provincia di varese dove abito io anzi non sapò neanche dell'esistenza di questa azienda comunque è una buona una buona notizia e comunque infatti dice la linea emozioni olfattive nasce con il pretesto di farci viaggiare di portarci in luoghi inattesi con note combinazioni olfattive adatte ad ogni ambiente poi va bella rancio e cannella agrumata e speziata una fragranza decise frizzante che combina le note fresche dell'arancio con i sentori speziati e pungenti della cannella impossibile non abbandonarsi a queste calde ed eccentriche atmosfere poi vabbè fra le altre mette la vaniglia e paciuli le note di lavanda note di verbena rosa e fico fiori di cotone vaniglia e paciuli note di poi lo ripete in inglese pardon non avevo visto la bottiglietta è la classica di vetro con il tappino bianco speravo fosse in legno ma vabbè fa niente e i bastoncini questo l'ho pagato 4,90 sono sempre abbastanza costose queste cose comunque anche nel anche alle roa merlaine che vendono quella marca che c'è un po ovunque è abbastanza cara quindi vabbè ne faremo un uso parsimonioso e poi ho contato e invece detti light french vanilla sempre aroma sensation queste qui sono non so se le fanno medine siamo ancora in ambito europeo sono 30 t light e sono costate 2 99 molto meno rispetto a un euro 9 però vabbè ci sta insomma va bene diciamo che la vaniglia è una fragranza molto molto comprata quindi sicuramente hanno dei costi inferiori mentre la apple forse piace solo a me comunque non importa anche questa odorando la confezione profuma tantissimo e la vaniglia e a un'altra un'altra degli aromi delle fragranze che a me sono più gradite niente per quanto riguarda questo video ho finito qui magari prossimamente con l'arrivo del periodo di preparazione al natale ci sarà anche qualche altro acquisto sia per la casa sia in previsione magari delle festività perché io sono una di quelle che con largo anticipo comincio a pensare cioè io già ad agosto sono già programmata per dicembre e quindi piano piano inizio magari a guardarmi in giro e cerco anche di non farmi prendere troppo dall'euforia perché in cantina uno scaffale completamente dedicato al natale e dovrei fare un po di pulizia nel senso di buttare via magari le cose più vecchiette più rotte più appiccicate con l'atta queste cose qua e sostituirle magari con qualcosa di più carino più o più moderno più in linea con il mio stile preferito che ricordo a tutti ma tutti lo sapete e lo scebbi in ogni sua declinazione quindi provenzale country floreale poi cuori 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 e niente praticamente è tutto qua per il momento vi saluto vi ringrazio di continuare a seguirmi e se volete che vi faccia qualche video in particolare segnalatemelo cercherò nel possibile di accontentarvi un bacio ciao ciao alla prossima